Io sono Francesca Bussolotti, sono sportellista franco-provenzale, lavoro al Cesdomeo di Giaglione presso il Comune e da anni mi occupo dell'organizzazione di eventi. Abbiamo una quarantina di comuni in rete che ogni anno usufruiscono di tutta la nostra animazione. Quindi ogni anno presentiamo un calendario, il calendario del Centauri Verne dove vi sono numerosi spettacoli teatrali, corsi di formazione, presentazioni di libro e varie testimonianze in lingua. In estate invece ogni anno in un comune diverso presentiamo il Sant'Anzamin che è una camminata che dura tutto il giorno con il gruppo Brulasar che ci accompagna con canti e balli. Tutti gli eventi vengono diffusi sui giornali locali quindi Val Susa e Luna Nuova, sul gruppo Facebook che abbiamo e il sito della Ciambradoc e del Cesdomeo.